State pronti? Il segnale è partito, ecco, vediamo. Dagli antichi mestieri del centro Abruzzo alle antiche tradizioni, l'appuntamento settimanale Convivere la vita, la rubrica di Onda TV, è dedicato questa sera alle corse della Madonna che scappa, celebre rito pasquale diffuso in tutto il mondo. Ripercorreremo insieme le edizioni degli ultimi anni con il collega Gaetano Trigiglio che più volte ha prestato la voce per commentare la manifestazione che si svolge a Sulmona la domenica di Pasqua. Da decenni l'emittente televisiva di Onda TV cura la diretta della Madonna che scappa e della processione del venerdì santo, commenta Trigiglio, è un servizio importante che viene garantito soprattutto a coloro che sono impossibilitati di uscire di casa nei giorni della settimana santa per partecipare ai riti pasquali. Ecco la Madonna corre, mi pare perfetta, perfetta, sentite i colombi volano, c'è lo scopo di Mortaretti, incredibile, la corsa della Madonna avviene molto bene, con molta chiarezza, ecco è arrivata, abbraccia il figlio, è andata perfettamente bene, siamo felici tutti quanti, possiamo abbracciarci tutti quanti. Nel corso della trasmissione saranno riproposte le corse delle edizioni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e l'ultima del 2014. La Madonna sta avanzando e sta raggiungendo il Fontanone, questo è un momento dove tutti tratteniamo il fiato, il respiro. Lui a Pasquale è la gioia per tutta l'umanità, l'ha ribadito il Vescovo, una gioia che in questo momento, in piazza Garibaldi, con l'emozione che questa sacra rappresentazione è capace ogni anno di regalare, noi vogliamo gustare appieno. È partita la corsa! Grazie a tutti!